Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi Una volta ammazzata la belva ancestrale ragazzi Quello che dovete fare per ottenere il signore della frenesia Per diventare proprio Dio e finire Eldering in un altro modo Ragazzi mi raccomando quando avete ammazzato questa belva ancestrale Vi riporterà qui dove avete ammazzato quel pezzo di merda Che veramente mi ha fatto bestemmiare Il mostro la amarega Mi raccomando non toccate la statua Quindi ragazzi adesso che livello un po' Vi faccio un attimo vedere che cosa dobbiamo fare Quindi una volta fatto ritorniamo alla capitale Però dopo che è stata distrutta Tanto ce l'avete anche voi qui alla capitale Eccoci qua ragazzi noi dobbiamo andare nelle fogne Quindi prenderò un mio vecchio video Lo metterò qui per farvi capire bene il passaggio Per andare là sotto Proprio dove si ammazza il presagio Quindi ora scendiamo un attimo qua sotto Mi raccomando fate attenzione a non schiattare Mi raccomando piano piano non andate a tipo parkour Quindi fate piano piano Ed eccoci arrivati Ma poi è un casino perché attraversare le fognature Un certo labirinto Sì sembra un labirinto Quindi è molto difficile capire dove è la strada giusta Ok mi fermo qua al punto di grazia Un momento che prendo il mio vecchio video Eccolo qua Allora Adesso vi faccio capire qual è la strada Girate verso sinistra Entrate in questo buco Girate a destra mi raccomando Non confondetevi con la strada Guardate con attenzione il video Oppure mettete la riproduzione a 0,5x Per farlo andare lento Questo è il passaggio Apro le porte Scendo qua sotto Saliamo qua sotto Su questo tubo Questi che fanno fatica a morire Da questa parte Ok il primo buco l'ho saltato Quindi appena vedo il secondo buco Devo buttarmela dentro Eccolo qua Appena vedete quei due buchi Il secondo buco più avanti Dovete buttarvi qua dentro E appena vedete questo tizio Con la lametta qua Che vi prende da dietro Avete preso la strada giusta Poi se non avete capito Proprio il passaggio Ragazzi Sono riuscito a trovare solo questo Questo sono riuscito a fare Tanti mesi fa Come video Ed eccoci qua Ritorniamo a noi adesso Tocchiamo il nostro punto di grazie Lì vabbè ci sarà il presagio Il boss da uccidere E' una volta ucciso Poi ci sarà Quella Quella tomba Avvicinatevi a quella tomba Quella tomba poi tremerà E si abbasserà Automaticamente Eccolo qua Comunque questo incantissimo Che ho appena trovato Incantissimo dopo aver ammazzato Malitech Quello mostro Quella belva Che si trova Alla terra dei draghi Questo incantissimo qua E' veramente Buonissimo Realmente buonissimo Ci farò anche un tutorial Su come averlo Ok Una volta fatto Vabbè c'è un baule C'è un talismano Se vi interessa Eccolo qua Avvicinatevi a questo tipo di tomba Non so cos'è sia Passatevi qua sotto Mi raccomando Fate attenzione Fate con calma Che sono morto dieci volte Già Sono morto un sacco di volte Con calma Con calma Mi raccomando Togliatevi i vestiti Le lame Tutto Per alleggerire un po' Il carico Per fare un bel salto Guardate qua Piano piano E Un altro bel salto Ed eccoci arrivati Buttatevi qua sotto Mi raccomando Mi raccomando Nudi Dobbiamo essere nudi Per aprire quella porta Nudi Ok nudi Con la mutanda Eccola Eccola Quando avete La frenesia Non potete Ritornare lì Entrare Nel suo habitat L'habitat di Marika E toccare la statua No Non ve lo permetterà Poi avremo Avremo un bellissimo Tatuaggio sulla schiena Tutto Rage Degli occhi russi E poi ritorniamo Da Marika Ok Semplicissimo Tanto Bastava solamente ammazzare Sia lui Che la belfa Poi ci riporterà qua E poi fa tutto Quel lunghissimo Viaggio Una volta fatto Tocchiamo questa statua E guardate un po' Cosa fa Si tocca la testa Sta soffrendo Non ce la fa più Crolla a terra E subito dopo Si riprende Urlando come un pazzo Distruggendo tutto l'albero Distruggendo tutta la città Intorno all'albero Quindi Veramente Complimenti Complimenti Veramente Agli sviluppatori Complimenti Alla From Software Grandissimi Poi questo è il mio Terzo viaggio Non c'è più la testa Incredibile C'è un sole Al posto della testa E dite ragazzi Quindi Spero tanto Di esservi stato D'aiuto Grazie a tutti Per questa visione Iscrivetevi al canale Lasciate un like Attivate anche La campanellina E se volete supportare Il canale Fate pure Quindi noi ragazzi Ci vediamo Ad un prossimo Tutorial Godetevi la scena Ciao Ciao Grazie a tutti Grazie.